Una settimana circa di autonomia per lo stile di battipaglia. Al TMB mancano 144 ore per fare il pieno dell'impianto, visto che si ritrova a dover incamerare più rifiuti di quanto previsto. Sarebbe inoltre stato comunicato ad Ecoambiente che mancano per la saturazione dell'impianto 1200 tonnellate. Pertanto l'unica soluzione è smaltire ad acerra che però ha un guasto. Insomma, si potrebbe profilare un'ennesima emergenza rifiuti. Al momento in entrata al TMB giungono circa 500 tonnellate e 50 camion giornalieri che non soddisfano le esigenze del vasto territorio provinciale. Il dato che induce alla riflessione è che dallo stabilimento battipagliese arrivano ad acerra ogni giorno circa 300 tonnellate. Dunque, andando avanti di questo passo, si rischia il collastro fa sei giorni con una conseguente emergenza rifiuti.